segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te io condivido al cento per cento le parole di draghi l'aprova è stato semplicemente delirante e toccando argomenti assurdi insomma considerando che quello è il ministro degli esteri di una potenza nucleare c'è da di che aver paura e il punto è quello che dicevo prima io penso che bisogna dibattere però dibattere e questo vuol dire non censurare le opinioni dissenzienti che pensano che anche che possano pensare l'opposto cioè che la russia aveva ragione per invadere l'ucraina però bisogna qualificarle e nel discorso che abbiamo sentito prima dal salavio quello che si è quello che a me sembrava di risentire era esattamente lo stesso approccio che c'era durante l'unione sovietica cioè l'idea di una negazione talmente assoluta della realtà cioè si si può manifestare i giornali sono liberi noi facciamo vedere tutto noi sappiamo benissimo che non è così perché queste notizie le abbiamo da giornali che sono dalla bbc alla cnn alla stampa a lei che è andato in ucraina cioè da persone che sono talmente libere che giletti può candidato criticare il governo quando gli pare dove gli pare nei termini più duri cosa che da voi non succede allora questa involuzione cioè il ritorno della russia essere l'unione sovietica è una gravissima minaccia ed è una grande perdita di occasione per per la russia io credo no santi